Ben trovati, oggi voglio presentarvi quello che è da qualche settimana il libro del momento. Il libro di Roberto Saviano 000. Dalla copertina si vede, è un libro che parla di cocaina. Nell'ultimo di copertina recita, guarda la cocaina vedrai polvere, guarda attraverso la cocaina vedrai il mondo. Questo è un po' l'anticipazione di quello che vuole essere il libro. Il libro racconta come questa sostanza stupefacente dà un senso di onnipotenza dietro la quale si svolge una storia, si girano tanti soldi, tante vite sprecate e dà questo senso di onnipotenza e poi alla fine ti butta giù. Insomma, sono cose che si sanno. Saviano ci racconta tutto ciò che sta dietro questo mercato. Un altro libro che vi voglio consigliare è questo di Stefano Lorenzetto. Lorenzetto è un giornalista veronese, è un nostro concittadino, Ixunt Leones. È la storia di 25 ritratti di storie di Veneti notevoli. Lui prosegue in questa sua attività giornalistica nelle interviste di personaggi particolari raccontandone quella che è la loro storia, il loro successo, la loro grandezza e in questo libro ci racconta le storie di 25 Veneti.